Voglio farti vedere una cosa Vedi, questo è un iPad Non credo che tu possa mai avere qualcosa di simile Puoi smetterla di chiedermi di utilizzare il mio iPad? Non l'ho fatto La risposta è no Ma non l'ho fatto La risposta è no Sì ma non l'ho fatto La risposta è no Scusi prof, è un problema se io prendo appunti con il mio iPad Pro Gcamac Hai per caso una penna da prestarmi? Ne ho una nera No, una penna di Apple per il mio iPad La mi sta scaricando Oh mio Dio Cosa? Ho dimenticato i quaderni a casa Ho letteralmente dimenticato i miei quaderni a casa Adesso dovrò utilizzare il mio iPad per prendere appunti Sì il mio iPad Che sfortuna